Visite mediche gratuite presso la sede dell'Avis in via Abruzzo, zona Sant'Antonio a Torre del Greco. L'invito a partecipare ai microfoni di TV City arriva dalla responsabile della sezione torrese Emilia Di Cristo, in occasione della partecipazione del gruppo Avis domenica ai Molini Marzoli. L'importanza di donare il sangue? Avis Torre del Greco è un'istituzione a Torre del Greco e adesso grazie alla collaborazione con Avis Santa Anastasia riusciamo a portare il nostro progetto su tutta Torre del Greco. A parte il Maresca che è un presidio ospedaliero settimanale, la domenica noi andiamo in giro per Torre del Greco offrendo la donazione ai nostri donatori, quindi loro dovranno donare. Noi a nostra volta faremo una serie di analisi gratuite e mettiamo a disposizione presso la nostra sede di Via Abruzzo 14 una serie di iniziative, ma iniziative sto parlando di visite mediche gratuite, senza ticket, senza nessuna richiesta basta essere un donatore Avis iscritto alla nostra associazione con un tesseramento fatto in sede o presso i punti di raccolta. Questo è il nostro messaggio che vogliamo dare a tutti e vogliamo dire avvicinatevi a questa realtà perché è molto importante. Colgo l'occasione da parte mia e di tutti i miei collaboratori di fare gli auguri di Natale a tutta Torre del Greco e grazie mille! Grazie mille!